Salve, sono Lucy Paul di Psicosoluzioni, la mia attività a Firenze e nella Valle di Cecina. Io aiuto persone con problemi di autostima, depressione, ansia, rabbia, sensi di colpa, quasi di tutti i giorni, ma anche le situazioni pesanti, quando sempre non si vede neanche la via di uscita. C'è il sistema per mettere tutto alle spalle e ritrovare la serenità, l'equilibrio, la gioia di vivere. Ne parliamo insieme, facciamo esercizi e poi imparare il potere che hai nelle tue mani. Prendi nota, investire un po' di tempo così rischi di perdere solo del tempo. Hai pensato quanto rischi di guadagnare? Prendi nota, 27 su questo webinar, ti aspetto. Ciao!